Lorena, Rosa, Martina, Paola, Eliana Domani Festival eccoci con i Java Jive Java Jive Se vi dicessero adesso siete state prese a Sanremo e non potete partecipare al Domani Festival? Mannaggia Lei è la mia cucina Loro sono un gruppo vocale, oramai è vero che un gruppo vocale non può cantare consonanti? Sì, si alternano Lo so io perché Ipila to divano, Maramau, Ipila to divano Grazie a tutti Grazie a tutti